All'obiettivo di promuovere i modelli di consumo e produzioni sostenibili, sostenere il passaggio della società verso la circolarità, aumentare la consapevolezza su come le iniziative a zero rifiuti contribuiscono al progresso dell'Agenda 2030 per lo sviluppo appunto sostenibile. La prima giornata internazionale di rifiuti zero proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 2022 e che si è celebrata il 30 di marzo. Il settore dei rifiuti, ricorda l'ONU, contribuisce in modo significativo alla triplice crisi planetaria del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e natura e dell'inquinamento. L'umanità genera ogni anno circa 2,24 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi urbani, di cui solo il 55% viene gestito in impianti controllati. Entro il 2050, ricordano le Nazioni Unite, si stima che la quantità potrebbe salire a 3,88 miliardi l'anno. Sono invece circa 931 milioni le tonnellate di cibo che vengono perse o sprecate e fino a 14 milioni i rifiuti di plastica che entrano negli ecosistemi acquatici. I rifiuti poi contribuiscono in modo significativo alle emissioni di gas serra nelle città e alla perdita di biodiversità. Entro il 2040, avverte l'ONU, si prevede che finiranno negli oceani fino a 37 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica.